ancora buon viaggio ben trovati muoversi in toscana mauro ciutini in studio personale su strada in a1 ci sono lavori tra chiusi chianciano e favro in direzione di roma passiamo al raccordo siena firenze chiusa una corsia per lavori il tratto interessante tra poggi bonzi e colle valdelsa in direzione di siena sull'aurelia anche qui c'è un tratto chiuso per una corsa ciclistica tra colle salvetti e livorno zona industriale sulla 12 della betone del brennero c'è ancora un senso unico alternato per la frana tra popiglio e l'incrocio la lima una risoluzione di carreggiata segnalata sulle 45 tra pieve santo stefano sud e madonnuccia poggiolino in direzione dell'incrocio viterbo terni per quanto riguarda gli aerei ricordo che il volo londra firenze delle 14 e 20 è atteso alle 17 e 55 ripartenza alle 18 è tutto per il momento muoversi in toscana con la regione toscana città metropolitana di firenze comune di firenze buon viaggio londra firenze